Il primo video è stato ripreso da Rachel Gaijin in diretta streaming e il suo incontro con un ragazzo giapponese che poteva finire davvero male. Il ragazzo si avvicina al suo tavolo senza invito e comincia a comportarsi in maniera un po' strana. La ragazza si infila anche il cappotto per evitare di essere toccata. Evidentemente, infastidita, Rachel fa segno al ragazzo di andar via ed è a questo punto che le cose sembra potesse peggiorare. Quando si alza, il ragazzo stringe il pugno e sembra quasi stia per avere una reazione da pazzo ma pare sia solo un addio imbarazzante. In ogni caso, se capisci il giapponese, fammi sapere cosa dice prima di andar via perché sembra quasi sia una sorta di minaccia. Si percepiscono comunque delle vibrazioni davvero inquietanti in questa interazione ed anche uno dei camerieri sembra tenga la situazione sotto controllo. Chissà cosa sarebbe potuto accadere se fossero stati in un luogo più appartato. Sempre in Giappone, in alcune montagne, c'è una rete di tunnel che potrebbe essere infestata. Questo luogo veniva utilizzato per compiere esperimenti nucleari, dei test, che sono costati la vita a diversi operai e alle presenze paranormali erano solo una voce in questo luogo almeno fino al 2011, quando un visitatore ha ripreso questo. Una figura pallida guarda verso la telecamera e poi attraversa una delle pareti del tunnel. È di certo un'esperienza che nessuno vorrebbe fare all'interno di una caverna più di 300 metri sotto terra. Potrebbero però trattarsi semplicemente di effetti CGI che viene mascherato con un effetto di interferenza attraverso l'immagine della telecamera e sarei portato anche a credere in questo. Ma c'è una cosa che mi dà un dubbio. Infatti, quando si tenta di zoomare l'immagine, non viene perso alcun dettaglio. Anzi, sembra proprio che la figura sia presente nello sfondo. Logicamente è solo un'ipotesi e non posso essere sicuro che sia reale. Un uomo, una donna ed il loro cane stanno passando un po' di tempo assieme quando sembra che qualcosa di paranormale accada sullo sfondo. Il loro sistema di sicurezza registra un bicchiere d'acqua che si muova in lungo il bancone senza che ci sia nessuno lì vicino. La famiglia dice che da sempre in casa hanno percepito una presenza negativa e finalmente sono contenti di aver catturato in video questa presenza. Come sempre, non sono di certo le prove migliori in assoluto e non posso neanche essere sicuro che sia tutto reale. Infatti, potrebbe esserci qualcuno nascosto dietro il grosso acquario che tira un filo di pesca, facendo credere infatti che si tratti di un poltergeist. Potrebbe però anche non esserci nessuno. In quel caso, fossi alla famiglia, traslocherei il più in fretta possibile. Un cacciatore di fantasmi chiamato Kelly Drake esplora una vecchia chiesa sconsacrata e per quasi tutto il video non riceve alcun segnale nella sua attrezzatura per mettersi in contatto con gli spiriti. Però, quando sta per andar via, decide di passare un'ultima volta per la navata principale. Ed è proprio in quel momento che una luce bianca fluttuà pacificamente davanti a lui. Il ragazzo dice che l'avvistamento non gli ha portato alcuna paura, anzi lo ha lasciato con uno strano senso di pace interiore. Probabilmente il luogo è davvero infestato, ma non si tratta di una presenza negativa. O potrebbe anche essere semplicemente un oggetto che, passato fuori dalla finestra, ha lanciato un riflesso di luce attraverso di essa all'interno della chiesa. Anche se non so cosa potrebbe averlo fatto. Il prossimo video è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza montata in un call center in India. Nel video si vede una donna che sta terminando di lavorare a tarda notte. Improvvisamente tutte le decorazioni appese al soffitto iniziano a muoversi da sole. Si è portati subito a pensare che si tratti del vento generato dall'aria condizionata. Ma allora come spiegheresti questa porta che si apre da sola? Potrebbe dunque trattarsi di una presenza che sta entrando nell'ufficio? Perché, anche se messa a tutta potenza, l'aria condizionata non dovrebbe riuscire a muovere degli oggetti in giro. La donna comunque si spaventa e, mentre raccoglie le sue cose per scappare via, gli oggetti sopra la sua testa oscillano sempre più forte. Un incredibile momento paranormale è stato ripreso in tv durante un notiziario di Detroit mentre si esplorava un vecchio ospedale abbandonato. L'inviata vede la vecchia cartella clinica di un paziente e si emoziona, sapendo che probabilmente ormai questi è morto e forse è proprio in quel luogo. Probabilmente quindi proprio la sua empatia sembra innescare una connessione con l'altro lato. La torcia della donna inizia a lampeggiare e quella non è l'unica occasione. Poi altre cose strane vengono riprese mentre l'esplorazione continua. Probabilmente il video non è stato organizzato. Magari potrebbe anche trattarsi solo di un falso contatto dei cavi o le batterie che erano quasi scariche. Ma non puoi negare che sembra lampeggiare proprio quando lo chiede la donna. Cosa che fa credere a molti che per davvero dei fantasmi infestino quell'ospedale. Questo video di una telecamera di sicurezza montata in una casa in Francia ha terrorizzato una famiglia. Due bambine stavano giocando nel corridoio quando qualcosa sbatte la porta alle loro spalle. Le due sorelline vanno a controllare ma non trovano niente e ricominciano così a giocare. Non immaginano però che una figura oscura si sta muovendo sul muro proprio sopra di loro. Galleggia sopra le bambine e diventa più oscuro e visibile quando la porta si chiude nuovamente. A quel punto le bambine si spaventano e scappano via. Ma la più grande decide di dare un'ultima occhiata da dietro l'angolo. E nota che ora i giocattoli si stanno muovendo da soli. A quanto pare la famiglia aveva già vissuto situazioni simili ed installato il sistema di videosorveglianza proprio appositamente per assicurarsi che non ci fosse nessuno in casa loro. E a quanto pare hanno avuto la prova che la loro casa è infestata da un poltergeist. Ma tu credi si tratti di un video reale o appositamente organizzato? Il prossimo video è stato caricato su Reddit. Inizialmente non sembra mostrare nulla di strano ma quando riuscirai a vedere la cosa diventerà molto più spaventoso. C'è infatti un'alta figura incappucciata appena visibile nell'angolo a sinistra di questo video di sicurezza girato in giardino e nessuno sa cosa sia. In molti però dicono di non riuscire a vedere niente ma a me sembra molto chiara c'è una figura piancastra che a momenti diventa anche più visibile. Tu riesci a notarla? Strani fenomeni paranormali sono stati trasmessi in live streaming lo scorso 3 di febbraio da Sarah Sinister un'investigatrice del paranormale che si autodefinisce una strega ed una sensitiva ed è per questo che dice di non aver problemi a mettersi in contatto con il mondo soprannaturale. Posiziona una pallina in cima delle scale muovendo anche alcuni passi per dimostrare che non si potrebbe muovere a causa delle vibrazioni quindi aspetta zoomando si può notare che la palla dapprima inizia a girare sul posto per poi essere spinta per le scale come se presa a calci la donna dice che si tratta di una presenza ma potrebbe esserci anche qualcuno appiattito sul pavimento in cima alle scale dato che da questa prospettiva non è possibile vederlo sarebbe stato infatti più credibile se avesse posizionato un'altra telecamera proprio in cima alle scale secondo il padre che ha girato questo video la bambina stava parlando con un fantasma inizialmente non si capisce molto bene ma poi diventa chiaro che sta cercando di convincere qualcuno o qualcosa a non parlarle più si riferisce all'identità come ad un'adulta e alza anche gli occhi quando le parla cosa molto strana poiché quando i bambini giocano con i loro amici immaginari non pensano mai ad una persona adulta se hai ancora qualche dubbio che il video sia falso ascolta anche la reazione del cane in ogni caso anche se organizzato il video risulta davvero strano e se anche questa breve raccolta di video paranormali infrasettimanale ti è piaciuta non dimenticare di lasciare subito mi piace noi invece ci rivediamo domani con un nuovo video ciao